Scene di ordinaria foglia ieri sera a Isernia intorno alle 20 dove un 24enne egiziano ospite di un centro di accoglienza ha seminato il panico nella centralissima via Berta e lungo Corso Garibaldi una volta uscito dalla struttura che lo ospitava ha iniziato a saltare sulle auto distruggendo il parabrezza di queste ultime una corsa folle per di più fatta per lunghi tratti a petto nudo solo dopo un'ora è stato rintracciato identificato e portato in questura pesante il bilancio una decina di auto distrutte danni anche in una stazione di carburante di via 24 maggio divelti persino alcuni segnali stradali un gesto assurdo fatto per di più davanti agli occhi increduli e sbigottiti di tanti passanti il 24enne subito dopo si è dato alla fuga da quel momento è iniziata una vera e propria caccia all'uomo diverse le persone fermate identificate alla fine la polizia i carabinieri lo hanno bloccato all'imbocco di via latina a segnalare la presenza dell'uomo sarebbe stato il proprietario del centro di accoglienza anche lui dopo aver appreso la notizia si è messo sulle tracce dell'immigrato il giovane non sarebbe nuovo a questi gesti già il giorno precedente infatti aveva iniziato a lanciare scarpe e indumenti dalla finestra della sua stanza per questo motivo nel pomeriggio di ferragusto dalla struttura avevano allertato le forze dell'ordine il 118 che lo hanno portato presso il centro di salute mentale dell'ospedale di campo basso ma la stessa sera era stato dimesso e aveva fatto ritorno a esernia sempre nello stesso centro di accoglienza poi ieri l'episodio ancora più grave come una furia si è scagliato contro qualsiasi cosa incontrava sul suo cammino un fatto di cronaca che ha destato non poca preoccupazione tra la cittadinanza in particolare per chi vive in quelle strade il 24enne infatti ha sfogato la sua violenza sulle auto in sosta ma in quegli attimi concitati hanno detto alcuni di loro poteva succedere davvero di tutto